Un saluto dal Tg della Mobilità, pianificata sotto il cavalcavia ferroviario di via Prenestina all'altezza di piazzale Labicano, la sostituzione di circa 100 metri di binario tranviario. L'intervento si svolgerà sino a sabato 8 luglio e poiché il tratto di binario interessato viene utilizzato sia come itinerario di linea che come percorso di instradamento verso i depositi e capolinea. È necessario sospendere l'intera rete tram per tutta la durata dei lavori. Di conseguenza i percorsi delle linee 2, 3, 5, 14 e 19 vengono svolti con bus sino alla fine del servizio dell'8 luglio. Il servizio tram verrà riattivato a partire da inizio corse di domenica 9 luglio. È tutto appuntamento alla prossima edizione.